Oh, siamo a Genova, dentro il Carlo Felice, Giovanni Battista Parodi non è diciamo un nome, un cognome che sembrano esotici in questo ambiente? No, non si può equivocare sulla mia genovesità, no, decisamente. Però qui invece, invece di essere Giovanni Battista Parodi, in questo allestimento del barbiere di Similia, è il tetro Don Basilio, diciamo. Esatto, è l'alter ego, in realtà, è il rovescio della medaglia di Figaro in fondo, cioè così come Figaro tifa e fa le parti del conte, Don Basilio fa le parti di Bartolo, salvo poi saltare sul caro del vincitore al momento opportuno. Ma è un gioiello di critica sociale, il barbiere di Similia è perfetto da questo punto di vista. Tra l'altro, ricordo proprio da ragazzino, la figura di Don Basilio mi faceva un po' paura, questo fatto di essere nero vestito sempre, no, istituzionale, in questo allestimento sarà vestito di nero? Sì, sarà molto tradizionale, il classico pretone col cappellaccio in testa, quindi sarà molto tradizionale e in effetti, se pensiamo solo alla calugna, deve far paura a Don Bartolo in primis, ovviamente. Ecco, fra l'altro, effettivamente parlavamo prima con Blago Iñakowski e forse questo è uno di quei casi dove, stranamente, il tenore è quello peggio servito da arie molto memorizzabili, da arie famose, perché Figaro sa va s'andir, ma Rosina stessa, comunque Don Basilio nel suo si ritaglia la calugna che ce l'è bene, quindi Almaviva è rimasto un po' come, a parte il rondo finale è rimasto un po' come. Sì, è vero, si vede che Rossini ha voluto fare il birbone, come era la sua abitudine fare, e ha scritto dei pezzi meravigliosi, ma non così esatto per gli altri, no? Non per il tenore l'ha lasciato un po' in... La calugna dà soddisfazione, però, a cantarla, no? Perché è un pezzo molto recitato. La calugna è fantastica, io poi in questa edizione la faccio in tonalità originale, quindi in re maggiore, che è un filo più scomodo, ovviamente, come si immagina, perché è più alta di un tono pieno, però è molto più bella, prende una brillantezza tutta diversa, quindi abbiamo visto che riesco a farla, abbiamo deciso col maestro di farla in tonalità originale. Tra l'altro so che Daniel Smith è un filologo, nel senso che ha un po' il culto di si va a cercare le partiture originali, le cose, e poi è della brillantezza musicale, lui tende ad avere metronomi abbastanza accelerati, quindi mi aspetto di divertirmi. Sarà brillantissimo come breviere di Sevilla, non solo dal punto di vista musicale, anche in scena, sarà una messa in scena molto tradizionale, quindi assolutamente divertente. Hai già provato all'Arena del Mare? Come è cantare sul mondo? Io, noi ancora no, ancora no, so che hanno provato con l'altra opera che la... Sì, io c'ero ieri sera, l'ho visti, è molto bello, ma mi interessava sapere il cantare, l'ho chiesto alla persona sbagliata, non avendo ancora... No, noi non abbiamo ancora provato, siamo... Venerdì, credo? No, lunedì, domani e sabato siamo qua, in palcoscenico, anche perché c'è ancora montata, credo, sulla Butterfly, e noi lunedì inizieremo le prove sul palcoscenico dell'Arena del Mare, sarà un'esperienza nuova, perché così all'aperto, proprio all'aperto, all'aperto, senza neanche delle quinte vere intorno, quindi sarà particolare, amplificati, ma... Toscanini diceva all'aperto si può solo giocare a bocce, però io ieri sono stato... Toscanini non aveva l'amplificazione e i microfoni che ci sono adesso, quindi giuro che il risultato è buono. Toscanini parlava un secolo fa, adesso nel frattempo il mondo è andato avanti, ci aiuta, e in realtà credo sia un'operazione che andrebbe fatta più spesso, non solo a Genova, ma anche in altre città, perché è un modo di avvicinare un pubblico diverso, probabilmente. Spesso c'è esatto la timidezza di varcare la porta di un teatro dell'opera, portiamo l'opera invece sul molo, cioè vediamo dove la gente... Portiamo l'opera sul molo, dove c'è la gente in costume, con l'infradito, va benissimo, e svecchiamo anche un po' questo ambiente, va benissimo farla in teatro, perché l'opera è per il teatro, meno male, beh, meno male che ci sono i teatri che funzionano, e col Carlo Felice, con l'acustica che funziona, però anche avvicinarsi un po' all'altro pubblico va bene. Sotto questo maxi spot finale abbiamo giusto il tempo, perché stanno per ricominciare le prove, fra poco qui canteranno, di firmare la locandina. Qua, guarda, va benissimo. Perfetto. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a voi e crepi il lupo. Perfetto. Grazie mille, in bocca al lupo.